Siamo proprio a fianco al nuovo tribunale di Napoli, uno dei luoghi più sorvegliati della città, eppure qui durante gli orari di ufficio è pieno di parcheggiatori abusivi e ognuno ha la sua tecnica. A me fa pagare un euro per rimanere solo dieci minuti e quando me ne vado, lui si riprende il grattino valido per tutta la giornata e lo presta, per così dire, al prossimo cliente e così il guadagno è assicurato. Poco più in là scoprò anche la pratica del biglietto colorato. Eppure davanti alla questura non scherzano. Cosa? Cosa? Questa macchina qua? Cosa? 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 Cosa?